Musica Se ne parla da tanti anni, ma adesso un passo avanti sembra essere davvero stato fatto. Alessandria, città universitaria, prende sempre più forma ed è stato formalmente presentato il progetto Campus Universitario. Il futuro Campus riguarda l'area localizzata al quartiere Orti in un unico lotto delimitato da alcune strade in posizione strategica e confinante su un lato con l'Università del Piemonte Orientale a Mediovegadro. Formata da un compendio immobiliare costituito da intero isolato circoscritto da Viale Teresa Michel, Via Donizetti, Via Rossini e Via Inzaglio, presenta al suo interno una serie di edifici in disuso disposti secondo un tipico schema di edilizia prefabbricata perfettamente adattabile alle esigenze di servizio pubblico. Più specificatamente, la proposta Campus Universitario di Alessandria si colloca all'interno del perimetro dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo a lato della sede universitaria, in una posizione strategica per l'università e servizi che questo intende fornire, un'area prossima alle fermate e collegamenti con i servizi pubblici, con una viabilità di servizio al contorno ben servita che sarà utilizzata per gli accessi veicolari, la logistica, il parcheggio per il personale e il pubblico, il punto di recezione degli utenti e le centrali tecnologiche e impiantistiche. Il progetto si qualifica con l'obiettivo di un concreto potenziamento delle strutture universitarie e regionali. L'obiettivo progettuale complessivo è quello di aumentare l'offerta in termini di servizi generali in un unico campus universitario, prevedendo spazi da destinarsi a laboratori, aule didattiche, uffici e luoghi di studio per i dipartimenti universitari esistenti e di nuova formazione. Nel dettaglio l'area coinvolta è di oltre 11.000 m2. Sul fondo dell'otto sono previsti edifici per studentato, con una capienza di circa 160 posti, disposti a forma di corte. Gli alloggi per studenti sono previsti al piano terra e in zona all'aperto, spazi per attività sportive, palestre, campo calcetto, campo da tennis, campo polivalente per basket e pala a volo. Il piano interrato esistente è mantenuto, ampliato e riutilizzato a parcheggi e locali tecnici, come magazzini, archivi e depositi. Il progetto campus universitario, ha commentato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha una valenza assolutamente strategica per la città e per l'intero territorio e l'avere individuato e definito in modo preciso l'area di intervento rappresenta, senza ombra di dubbio, un passo concreto per procedere alla complessiva realizzazione dell'obiettivo. La costruzione di un campus universitario nella città di Alessandria, ha detto invece il rettore Giancarlo Avanzi, è un obiettivo ambizioso ma realizzabile. Abbiamo messo la prima pietra con l'accordo per l'acquisto del terreno, dove sorgerà il nuovo edificio, che ospiterà il dipartimento di giurisprudenza, scienze politiche, economiche e sociali e corsi di studio di medicina e delle professioni sanitarie. I docenti di questi ultimi contribuiranno, in un prossimo futuro, a formare il terzo dipartimento di area medica dell'Università del Piemonte Orientale, che si inserirà ad Alessandria. Alessandria Alessandria Alessandria